e mercoledì 3 febbraio buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento delle sette con la rassegna stampa prima di andare a dare un'occhiata ai quotidiani che troviamo oggi in edicola come sempre uno sguardo anche al meteo alle temperature che si registrano in queste prime ore del giorno in Friuli Venezia Giulia con alcune immagini che ci arrivano dalle nostre montagne in questo caso siamo a Erto e Casso vediamo eh sullo sfondo il paese eh che è ancora avvolto nei colori eh della notte c'è un po' di nebbia in queste prime ore del giorno in eh montagna dove ci sono anche ehm molte nuvole nuvole un po' tutto il Friuli Venezia Giulia in queste prime ore del giorno con eh temperature che ehm sono un po' più alte rispetto ai giorni scorsi vediamo a forni di sopra un grado e un decimo un grado e otto decimi a Tarvisio sul monte Lussari il termometro scende sotto zero meno tre gradi e quattro decimi meno quattro gradi e quattro sul monte Zoncolan meno due gradi e due decimi sul piancavallo a Tolmezzo tre gradi e nove decimi così come a Pordenone a Udine il termometro segna cinque gradi e un decimo cinque gradi e sei a Cividale quattro gradi e sei a Cervignano a Gorizia cinque gradi e nove decimi sulla costa a Trieste otto gradi e otto decimi sei gradi e nove a Lignano sette gradi e otto a grado con una temperatura del mare che segna nove gradi e tre decimi cielo nuvoloso come vediamo anche in questa eh immagine eh che eh ci arriva da eh Trieste cielo nuvoloso dicevamo eh anche lungo la costa ma adesso vediamo le previsioni del tempo per questo mercoledì Un saluto e ben ritrovati amici di Udinese TV da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'alta pressione nella giornata di mercoledì sarà disturbata da umide infiltrazioni responsabili dunque di un incremento in ispessimento della copertura nuvolosa su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e con anche precipitazioni in sviluppo attorno all'area costiera in serata ma vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Pordenone e Udine sarà una giornata con cieli grigi coperti e precipitazioni in sviluppo nel pomeriggio sera il clima non sarà particolarmente freddo le temperature minime si rialzeranno di qualche grado i valori massimi invece saranno stazionari al più in contenuto lieve calo ma vediamo più in dettaglio cosa ci attenderà tra Gorizia e Trieste sarà una giornata con cieli grigi come anticipato e con precipitazioni in sviluppo nel pomeriggio sera sull'area costiera le temperature massime inoltre raggiungeranno picchi di 8 10 gradi sul triestino la ventilazione sarà debole a regime di brezza tutte le quote con questo è tutto ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita trebi meteo la crisi è di governo in primo piano oggi sulla stampa nazionale con la decisione del presidente della repubblica mattarella di eh affidare l'incarico per esplorare le possibilità di formazione di un nuovo governo di una nuova maggioranza a un tecnico e il nome in pole position è quello di eh Mario Draghi allora ecco la prima pagina del corriere della sera vediamo in apertura a governo il colle chiama Draghi le scelte sulla eh crisi fallito il tentativo di un conteter mattarella alle forze politiche perché votino un esecutivo di alto profilo queste le parole utilizzate ieri da eh mattarella nel suo eh discorso e poi leggiamo anche le prime righe del dell'articolo eh di apertura delle corriere della sera che apre proprio con le parole di mattarella serve un governo di altro di alto profilo darò presto un incarico non politico così ieri sera al capo dello stato dopo l'incontro al Quirinale con Roberto Fico incaricato di esplorare la maggioranza che avrebbe dovuto dare vita a un conteter tentativo fallito tra veti incrociati e le resistenze di Renzi Sergio Mattarella ha convocato per oggi a mezzogiorno il professor Mario Draghi è il fattore tempo con la pandemia che ancora fa paura e una crisi economica mai vista dal dopoguerra a preoccuparlo andare al voto vorrebbe dire tenere a lungo il paese senza un governo in pienezza di funzioni queste le parole usate da mattarella l'appello ai partiti perché appoggino l'esecutivo e allora vediamo le reazioni dei partiti eh di spalla oggi sul Corriere un'intervista a Salvini che dice ci dica lui e che vuole fare e decideremo e poi ancora da Movimento Cinque Stelle a Forza Italia sorpresa tra i partiti opposizioni e eh aperture la strada scelta da Sergio Mattarella sorprende divide i partiti il diktat del centrodestra è quello di cercare di restare uniti e prendere assieme una posizione che non faccia saltare l'alleanza il Movimento Cinque Stelle e si spacca dai parlamentari arrivano voci pro e contro il governo eh tecnico di Battista e Crimi bocciano Draghi no a un governo tecnico dicono Matteo Renzi è soddisfatto e eh scherza sui eh con i suoi e siamo noi contro il resto del mondo dal Partito Democratico la massima attenzione e dispos e disponibilità al percorso indicato dal capo dello Stato Chiudiamo il Corriere e andiamo su Repubblica ecco la prima di Repubblica l'ora di Draghi la svolta del eh Quirinale Fico conclude il suo mandato senza una maggioranza politica il capo dello Stato esclude il voto e affida il governo all'ex banchiere Forza Italia valuta il eh sostegno Grillini e eh Lega si eh spaccano e poi vediamo nel taglio taglio alto anche qui le parole di ieri di Mattarella avverto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo non identificato in alcuna formula politica e che faccia fronte con tempestività a gravi emergenze non rinviabili e poi vediamo eh tante eh tanti approfondimenti eh anche su Repubblica abbiamo l'editoriale di Maurizio Molinari che parla della posta in gioco è un momento drammatico dice al tempo stesso di speranza per il nostro eh paese di spalla la missione di Super Mario dalla Banca Centrale Europea a Palazzo eh Chigi e poi i duellanti Renzi affonda il premier che pensa un suo eh partito e il personaggio l'esploratore smarrito nel suo eh labirinto nel eh taglio eh basso vediamo un'altra eh notizia eh in primo piano eh nelle ultime ore eh eh quella che ci arriva dalla Russia con la condanna eh dell'oppositore Navalny ha eh tre anni e mezzo eh di carcere ci sono state tante manifestazioni di protesta eh in Russia e gli Stati Uniti dicono liberatelo eh subito ancora dalla prima di Repubblica andiamo sulla stampa i costruttori titola la stampa con la foto di Mattarella e Draghi in eh primo piano in apertura si sblocca la crisi di governo oggi il presidente Mattarella in carica Mario eh Draghi e abbiamo eh l'editorale l'editoriale di Massimo Giannini che dice per l'Italia è l'ultima chiamata dalla stampa al fatto quotidiano che in apertura attacca Renzi Renzi ci regala la mucchiata scrive il fatto quotidiano arriva Draghi Mattarella convoca l'ex capo della BCE e poi ancora vediamo fa esplodere tutto Italia Viva alza il tiro su giustizia affari e poltrone per far saltare Conte il colle gliela da vinta nega il voto sempre evocato e chiede il eh governissimo che era pronto da eh tempo dice il fatto eh quotidiano Conte i e i giallorosa a un bivio opposizione o eh responsabilità una coalizione sotto eh attacco ancora eh chiudiamo anche il fatto quotidiano e andiamo sul manifesto il commissario titola il manifesto la crisi scatenata da Renzi giunge al suo prevedibile temuto epilogo a governare il paese nel suo più drammatico momento storico dal dopoguerra arriva Mario Draghi che oggi sarà incaricato dal presidente Mattarella di formare un governo di salute pubblica vediamo anche il gazzettino uno sguardo a nord-est anche qui in apertura la politica nazionale governo è l'ora di Draghi fallito il tentativo di ricomporre l'alleanza giallo-rossa Mattarella chiama l'ex capo della banca centrale europea e poi anche qui le parole di Mattarella serve un governo di alto profilo elezioni troppo rischiose in questo momento e c'è anche il ritratto di Draghi la sfida di Super Mario dopo l'Europa dovrà salvare l'Italia e di spalla abbiamo anche l'approfondimento l'articolo di Carlo Nordio che parla delle colpe della politica e la salute dei cittadini per quanto riguarda invece le news che ci arrivano dal Veneto sul fronte vaccini e caccia ai vaccini Zaya dice cerchiamoli anche sul mercato il governatore è una questione di salute pubblica le regioni nel confronto con il governo dicono autorizziamo pure i sieri russi il presidente Zaya è deciso a percorrere tutte le vie per trovare più vaccini li stiamo cercando c'è qualche notizia che ci dice che si potrebbero trovare sul mercato ne sto ricevendo pochi è una questione di salute pubblica detto Zaya dal Veneto al Lazio intanto è stato chiesto che non ci siano pregiudizi verso il vaccino russo secondo uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet ha un'efficacia del 91,6 per cento e a proposito delle misure per il contenimento del covid verso la proroga al divieto di viaggi tra zone gialle il governo sta valutando la proroga del divieto degli spostamenti tra regioni a prescindere dal colore e poi a centropagina i banchi banchi a rotelle che finiscono in magazzino in un deposito nella provincia di Padova bocciati dalle scuole sono in un deposito della provincia e nel taglio basso a Venezia cambia la proprietà di uno storico hotel il Baglioni Hotel Luna 23 camere suite con vista sull'isola di San Giorgio acquistato da miliardari inglesi chiudiamo il gazzettino sul quale ritorneremo poi per andare a vedere le cronache dal Friuli e continuiamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei quotidiani nazionali siamo su Libero che titola oggi in apertura Conte fuori dai piedi non si vota convocato Draghi una maggioranza d'asilo finisce a pezzi Giuseppe va a casa Mattarella fa appello a tutte le forze per appoggiare un governo di alto porfilo e chiama l'ex presidente della BCE Salvini dice la sovranità appartiene al popolo Forza Italia tentata da Super Mario ancora andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale finalmente Draghi scrive il giornale giallorossi a casa addio Conte governo del presidente Renzi fa saltare il tavolo il tavolo Fico si arrende la maggioranza non c'è e Mattarella convoca Super Mario oggi l'incarico e poi vediamo nel taglio centrale chi è l'ex governatore della BCE l'italiano convocato da tutti che ha già salvato l'Europa ancora chiudiamo anche la prima pagina del giornale e vediamo la verità dopo il fico secco arriva Draghi titola la verità l'esploratore del Quirinale fa un fiasco clamoroso nessun accordo il presidente della camera deve gettare la spugna dopo due giorni di circo tra gli alleati tra gli ex alleati volano i coltelli a furia di intrighi e spregiudicato cinismo Renzi è riuscito a far fuori Conte e questa è l'unica buona notizia di questa pantomima Mattarella nega il voto con la scusa della pandemia e annuncia un governo con l'ex capo della BCE chiudiamo anche la verità e vediamo il sole anche sul sole 24 ore la politica in primo piano Mattarella convoca Draghi un governo di alto profilo e poi invece nel taglio centrale vediamo gli ultimi dati sul PIL a fine 2020 secondo l'Istat la crescita è stata o meglio la decrescita è stata dell'8,8 per cento PIL in calo dunque nel 2020 dell'8,8 per cento leggermente meglio delle previsioni dice il sole nonostante il lockdown l'industria ha tenuto con export e innovazione la manifattura argina la caduta del PIL e poi a centro pagina un cambio della guardia ai vertici di Amazon eh Bezos lascia il timone Amazon Andy Yassi sarà il nuovo eh CEO e poi i dati di Amazon che di Amazon che nel trimestre di Natale ha avuto ricavi pari a un più 44 eh per cento chiudiamo anche il sole ventiquattro ore e vediamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport qui in primo piano c'è la Coppa Italia con la eh semifinale d'andata tra Inter e Juve ha vinto la Juve a San Siro per due a uno che e rivincita titola la Gazzetta dello Sport in apertura con i le lettere CR in eh giallo perché il protagonista della serata è stato eh Cristiano Ronaldo un gol su rigore ingenuità di Young e uno dopo un pasticcio Bastoni Andanovic e così Ronaldo rimonta Lautaro e vendica il K.O. in campionato Cristiano e Vidal sostituiti si arrabbiano Conte dice il progetto del club fermo ad agosto martedì ci sarà la gara di eh ritorno e oggi l'altra semifinale tra ehm Atalanta e Napoli arriva l'Atalanta Napoli la squadra vota la fiducia a eh Gattuso si gioca eh questa sera al eh a Napoli chiudiamo la Gazzetta dello Sport poi eh torneremo per dare un'occhiata alle notizie che riguardano l'Udinese in primo piano solo un flash veloce c'è l'ultimo arrivo il giovane Braff lo manda Peppe scrive la Gazzetta poi andremo a leggere qualcosa di più ma adesso eh spostiamo la nostra attenzione sui eh quotidiani locali piccolo Gazzettino Messaggero Veneto per eh concentrare l'attenzione sulle news dal Friuli Venezia Giulia e allora subito la prima pagina del dorso del Friuli del Gazzettino ecco qua si parla di vaccini in apertura vaccini la fase due entra nel vivo un vertice per fare il punto sulle secondo step che riguarderà i cittadini over ottanta raggiunta quota cinquantatremila dosi somministrate in arrivo a marzo nelle farmacie i test antigenici rapidi che saranno a disposizione in quattrocento strutture aderenti queste le novità della eh giornata di eh ieri saranno disponibili materialmente da marzo i test rapidi antigenici in farmacia l'annuncio è arrivato ieri da Palmanova all'esito della firma del protocollo predisposto ad hoc tra regione e Federfarma il vice governatore Riccardi ha sottolineato il ha sottoscritto il documento assieme a Luca Degrassi e Marcello Milani rispettivamente presidente segretario generale di Federfarma Friuli Venezia Giulia e la referente regionale di Assofarma Farmacie Unite Alessandra Forgiarini ora le circa quattrocento farmacie regionali distribuite in modo capillare e importante presidio di salute soprattutto nelle aree più periferiche dovranno aderire su base volontaria ancora rimanendo in questo eh tratto di pagina vediamo la questione eh città eh fiera alle prese con le restrizioni sulle aperture in occasione delle giornate festive e eh il patrono è una giornata eh festiva città fiera chiuso norme dannose per il patrono sono negozi essenziali e Bardelli dice così eh si uccidono i piccoli alla fine al città fiera ieri i negozi hanno potuto aprire nonostante fosse la vigilia del patrono grazie al via libera arrivato al photo finishing mattinata dalla prefettura di Udine come in qualche modo ventilato dal prefetto vicario Gloria Allegretto già la sera prima in un colloquio con il sindaco di Martignacco Gianluigi Casali ma oggi giorno del patrono al centro commerciale di Torreano potranno restare aperte solo le eh attività essenziali un'anticipazione delle pagine sportive in prima pagina eh apereira le chiavi del gioco bianconero l'udinese si prepara ad affrontare il Verona e poi è di spalla riparte la scuola ma è già sciopero dei bus lunedì scatterà lo sciopero di quattro ore del eh personale dei eh trasporti ancora i lavori del consiglio regionale con l'approvazione di un disegno di legge per sostenere le attività culturali e eh sportive in difficoltà in questi mesi di pandemia sei milioni a fondo perduto sei milioni e trecento ehmila euro a fondo perduto per le imprese del mondo della cultura per ristori e per la ripartenza ancora nel taglio basso un ponte tibetano per attirare i eh turisti a eh Malborghetto in eh località Ciurciule sarà un ponte tibetano di cinquantaquattro metri di eh lunghezza a eh ricollegare Malborghetto con la piccola eh località la conferma viene dall'amministrazione comunale che si è ufficialmente impegnata a porre fine a un problema che si trascina dal duemila eh nove e poi eh a Udine un piano da sessantacinque telecamere nel capoluogo per potenziare il sistema di video sorveglianza nel eh taglio alto ci sono le ehm polemiche eh per la mancanza ancora di un direttore al del distretto sanitario di Udine nomina il fotofinish e serve un direttore a tempo pieno ancora polemiche dopo la nomina ad interim e poi per quanto riguarda la cultura a Musei di Udine si riapre un po' alla volta a partire dall'etnografico seguirà il eh castello Villa Manin riceve il pubblico con una mostra dedicata ai eh Magredi Napoleone guida eh speciale chiudiamo il gazzettino adesso poi andremo sulle pagine sportive ma ehm adesso appunto spostiamo la nostra attenzione sul piccolo cominciamo con il piccolo di Trieste anche qui c'è la politica in apertura eh con un governo eh di alto eh profilo il eh il Colle convoca eh Draghi e vediamo l'appello di Mattarella a tutti i partiti PD e Movimento Cinque Stelle contro Renzi Salvini e Meloni chiedono il eh voto e poi eh le eh cronache eh locali eh vediamo lo sport a centropagina con la eh Triestina che eh pareggia contro il Modena l'Unione pareggia uno a uno meritavamo di eh vincere dalle pagine del piccolo di Trieste andiamo su quelle di Gorizia e vediamo anche qui i titoli eh principali l'apertura è la stessa a centropagina invece eh un una storia eh quell'incontro con l'orso Melosogno di eh notte e nelle pagine interne abbiamo eh tutto eh l'articolo andiamo a vedere anche la prima pagina del piccolo di eh Gorizia eh c'è la politica eh cittadina in primo piano Cisinte Felcalo alleati con eh Ziberna Isontino Unito per contare di più i tre primi cittadini fanno quadrato basta antagonisti come vuole il PD e qualche eh opportunista la risposta del centrodestra alla crisi in municipio a Gorizia. Andiamo adesso sul messaggero Veneto messaggero Veneto di eh Udine e vediamo anche qui la eh prima pagina con l'apertura dedicata alla politica nazionale Mattarella convoca Draghi governo di alto profilo fallito il mandato a eh Fico l'ex governatore della BC è pronto alla sfida ma la maggioranza sia eh ampia e poi vediamo a centropagina migliaia di chiamate ogni giorno operatori in prima linea eh nell'emergenza un'immagine eh che eh ci mostra eh appunto la eh centrale operativa dove ogni giorno arrivano eh migliaia di eh chiamate di soccorso migliaia di chiamate al giorno viaggio tra gli operatori che smistano i pazienti covid nell'ultimo anno sono passati dalle persone impaurite alla gestione dei casi gravi di infezione al lavoro anche settantaquattro volontari ora la gente è arrabbiata e noi abbiamo risposte eh certe dicono decine di specialisti in campo per affrontare la eh pandemia e qui c'è tutto eh l'approfondimento ma torniamo adesso in prima pagina e andiamo a vedere anche le altre eh notizie vediamo anche sul messaggero da marzo i test rapidi in farmacia fare l'esame costerà ventisei euro l'accordo sottoscritto ieri con eh Federfarma e poi eh si ehm parla della riapertura eh delle piste da sci a numero chiuso sulle piste da sci skip us online e su eh prenotazione conto alla rovescia per la riapertura delle piste eh da sci al popolo della neve che eh quest'anno con le cime imbiancate come non mai e ancora a digiuno di eh discese di spalla le altre eh notizie tolte le magnolie da via dei rizzani non saranno eh sostituite e poi è per la cronaca addio a Luisa Zilli fu una delle prime conduttrici di telefriuli si ammala solo chi sta a casa aveva detto assolto il bidello eh negazionista a Cervignano il debutto della raccolta dei rifiuti porta a porta e poi eh la eh nonna di San Daniele briscola e tableti centosei anni di eh Olga ancora vediamo sempre sulla eh prima pagina del messaggero Veneto nel taglio alto eh l'intervista a De Nicolo la malavita organizzata appunta sulle imprese in crisi per il eh covid andiamo adesso sulle pagine interne vediamo la prima pagina del fascicolo dedicato a Udine e provincia dove troviamo l'approfondimento dell'articolo richiamato in eh prima pagina ovvero il taglio delle eh magnolie in via dei Rizzani e sradicate le magnolie da via dei Rizzani non saranno eh sostituite il vice sindaco eh Michelini spiega marcia piedi sconnessi impossibile il passaggio in eh carrozzina ma l'opposizione attacca altro che città eh verde. Chiudiamo questa pagina del messaggero Veneto e andiamo adesso sull'edizione eh pordenonese rimaniamo sempre eh su questo eh quotidiano e eh vediamo il fascicolo di apertura dell'edizione di Pordenone è stato completato il primo ciclo di vaccinazioni nelle case di riposo già da questa settimana ci saranno anziani immunizzati previsto un piano di monitoraggio in tutte le eh strutture e poi vediamo tutto l'articolo nel taglio alto invece le vittime del eh coronavirus in provincia di Pordenone cinque decessi in provincia ricoveri in lento eh calo andiamo a eh vedere anche la prima pagina così diamo un'occhiata anche alle altre notizie eh che vediamo eh richiamate appunto in eh prima lutto nella sanità per la scomparsa del neurologo Lisotto e poi Electrolux da record la pandemia spinge gli eh elettro eh domestici la regione immagredi in vendita quei terreni sono vincolati e a Azzano imprenditore muore una settimana dopo il eh fratello e poi un'altra notizia di eh cronaca che eh ci porta a un eh fatto accaduto in eh Puglia la donna uccisa a Lecce e Sonia aveva abitato un anno in eh Friuli scrive il messaggero. Chiudiamo adesso queste pagine di eh cronaca e spostiamo la nostra attenzione sulle pagine eh sportive cominciamo a scorrere le pagine del fascicolo eh sportivo per dare un'occhiata ai titoli principali c'è l'udinese in apertura a quanto mancherà De Paul con il Verona e la mezzala che corre di più in Europa. Rodrigo squalificato per domenica una statistica lo mette al livello di De Jong, Luis Alberto, Bernardo Silva e eh Camavinga. Sarà dura eh rinunciare a De Paul per la partita di eh domenica contro eh il Verona. Tanto che questo pensiero è balenato nella testa di tutti i tifosi bianconeri nell'attimo in cui il giovane arbitro Antonio Di Martino che nella vita gestisce a Giulianova un ristorante di pesce con la famiglia ha deciso di tenere fuori un cartellino rosso il piatto forte della sfida della scorsa domenica a Spezia quella con quel Don Rodrigo che pochi minuti prima aveva realizzato il rigore che poi risulterà decisivo per la vittoria eh bianconera e poi vediamo appunto eh la grafica che ci mostra eh i ehm i giocatori appunto che corrono eh di più e De Paul è decisamente sopra la eh media andiamo anche nella pagina successiva e vediamo anche eh qui il nuovo acquisto l'udinese eh si gode braf l'olandesino italiano felice di essere qui dice undicimila cuoricini in meno di ventiquattro ore per il suo primo post Instagram ciao a tutti sono molto folice di essere qui forza eh udinese ancora rimanendo eh sulle pagine eh del messaggero veneto eh che ehm dà un'occhiata anche fa un bilancio anche del eh calciomercato di gennaio Toro, Cagliari e Parma le rivali dell'udinese che più si sono mosse per risalire la eh classifica Mandragora, Sanabria, Rugani e Naingolani colpi eh migliori gli emiliani attaccano con Pellè e i giovani Mann e eh Zirkzee. Chiudiamo questa pagina del eh messaggero e eh a proposito di mercato vediamo anche eh il Pordenone in primo piano c'è ancora la eh partenza di Diou e l'offerta per Diou era irrinunciabile dice il presidente Lovisa la parola d'ordine è autosostenibilità. Lovisa fa il bilancio del Pordenone e alla fine del mercato eh alla fine del mercato e dice vedrete ci toglieremo ancora delle eh belle eh soddisfazioni e poi vediamo avanti con il quattro tre uno due Curria Genio e Fantasia dietro il duo Musiolic Butic e le ultimissime eh per quanto riguarda il eh Pordenone in difesa torna Camporese eh vogliaccio eh decisivo a destra eh dietro manca solo eh Bassoli. Chiudiamo eh adesso questa eh pagina eh del messaggero Veneto e eh vediamo anche quella dedicata alla eh pallacanestro eh a più c'è Portannese in prova il sogno resta Campogrande la crisi dell'Old Wild West la squadra che non gioca da un anno da ieri si allena gli ordini di eh la scusate la guardia che non gioca da un anno da ieri si si allena agli ordini di Bonicciolli la società cerca un rinforzo nella casella numero eh tre piace l'ala della eh Reier porte girevoli in casa a più Old Wild West dopo il summit del CDA che ha portato alla conferma di coach Bonicciolli sono iniziate le grandi manovre per operare i ritocchi al roster bianconero da ieri si allena con Antonuti e soci Marco Portannese Playguardia classe ottantanove attualmente free eh agent il giocatore è in eh prova. Chiudiamo il messaggero Veneto e eh torniamo adesso sulle pagine del gazzettino gazzettino eh del Friuli e eh ripartiamo appunto dal dall'udinese avevamo visto prima in apertura eh del fascicolo anzi nel taglio centrale della prima pagina del gazzettino del Friuli le chiavi del centrocampo in mano a Pereira e nelle pagine interne il eh titolo e l'articolo sarà Pereira a guidare tocca all' argentino affiancato da Uolas e Arslan sostituire nel ruolo De Paul domenica con il Verona Llorente potrebbe anche partire dall'inizio al fianco di Deulofeu e ci sarà il ritorno di Lasagna alla eh Daccia Arena con la maglia del eh Verona ieri si è unito nuovamente al gruppo l'attaccante Okaka che mancava da metà eh dicembre e leggiamo anche le prime righe dell'articolo ora non vanno vanificati il successo contro lo Spezia né la convincente prestazione l'udinese che ha individuato la strada maestra dopo un periodo di sbandamento è chiamata non solo a limitare gli incidenti di percorso ma a far valere il proprio potenziale sfruttando le occasioni propizie come quella di domenica alla Daccia Arena contro il Verona gli scaligeri sono la lieta sorpresa del torneo praticano buon calcio e sono anche baciati dalla dea bendata ma non si può dire che potenzialmente sono superiori ai bianconeri non sarebbe nemmeno giusto nei confronti dei Pozzo che hanno messo a disposizione di Gotti un buon organico per consentirgli di guidare senza patemi l'undici eh bianconero e poi vediamo appunto il rientro di eh Okaka e ehm per la difesa sarà disponibile anche il brasiliano eh Samir che contro i Liguri ha scontato la squalifica ci vorrà invece ancora tempo prima di rivedere in campo l'italo argentino eh forestieri che nella sfida di Bologna ha eh il 6 gennaio subito uno stiramento che lo stringerà che lo costringerà ancora a disertare eh l'allenamento e poi il diciottene olandese Braff ieri ha ultimato le visite mediche e oggi eh dovrebbe svolgere il suo primo allenamento agli ordini di eh Gotti. L'ex City ha scelto la maglia numero eh ventuno e domenica quasi sicuramente andrà in eh panchina. Andiamo anche nel taglio basso dove eh si parla di eh un evento eh che eh ha visto protagonista anche la Dacia Arena. Dacia Arena diventata eh un modello europeo Magda Pozzo ha eh relazionato a un intervento eh mondiale eh dedicato agli stadi alla le nuove al nuovo ruolo degli stadi in realtà vive trecentosessantacinque giorni eh all'anno e tra questi stadi c'è anche la eh Dacia Arena. L'udinese è risaputo e l'avanguardia per molte cose. Lo è stata nello scouting e nel far muovere i primi passi alla tecnologia applicata all'arbitraggio. Continua a esserlo in tante iniziative extracampo anche se il fiore all'occhiello è lo stadio di proprietà non comune nel nostro eh paese. Ormai la Dacia Arena non è soltanto un punto di riferimento nel territorio nazionale ma anche un modello globale di impianto eh moderno tanto da avere un focus dedicato nell'ambito di una prestigiosa convention eh mondiale la Soccer Ex Connected eh che appunto eh concentra la sua attenzione sugli stadi di nuova eh generazione. Ancora vediamo di spalla eh l'intervento eh di eh Michele Criscitiello che punta l'attenzione sul mercato, le risposte inequivocabili del mercato, il mercato di riparazione per sua stessa definizione vede protagoniste le squadre che hanno qualcosa da modificare per questo l'udinese organico alla mano avrebbe potuto esimersi dall'intervenire approfittando dell'ottimo lavoro svolto in estate e della qualità della rosa. Una serie di cause legate agli infortuni e alle cessioni eh troppo vantaggiose per poter essere lasciate andare hanno invece comportato l'ingresso in scena del management friulano che come al solito ha fornito risposte eloquenti e eh inequivocavi e poi l'articolo prosegue appunto analizzando il mercato di riparazione eh dell'udinese e eh ancora ehm vedendo eh un flash sul Pordenone anche qui prima di continuare a parlare di Udinese con la eh gazzetta si parla del neoacquisto neroverde finotto finotto bomber fenomenale interista e un grande ammiratore del Ronaldo brasiliano ricordo con piacere il derby del duemila e dodici il ventotenne attaccante preso dal Monza e in fase di recupero dopo un grave infortunio dovrebbe essere pronto a eh marzo. Chiudiamo il gazzettino e torniamo adesso sulla gazzetta dello sport e torniamo a parlare di Udinese di mercato dell'arrivo del eh giovane eh olandese eh Braff ecco il titolo lo manda Pep ecco Braff l'udinese punta sull'olandesino esterno eh d'attacco di talento arriva dal siti dove Guardiola lo ha già eh provato con i eh big e poi le prime righe dell'articolo di Nicola Angeli Braff in friulano significa bravo la grafia corretta sarebbe appunto con l'accento sulla A ma il suono è lo stesso tra i tifosi bianconeri già a partire dalle prime indiscrezioni sull'arrivo dell'olandese si sono sprecate le battute tanto da diventare già fin troppo scontate in pochi giorni finezze linguistiche e ironia spiccia a parte eh ciò che conta è che Jaden Braff ultimo arrivo del calcio mercato dell'udinese faccia davvero fede al suo eh cognome e poi c'è eh tutto l'articolo che lascio a voi eh leggere chiudiamo la gazzetta eh dello sport e eh andiamo a vedere adesso anche le altre prime pagine dei quotidiani sportivi eh nazionali andiamo a vedere Corriere dello sport e eh tutto sport in primo piano c'è la semifinale di Coppa Italia cominciamo con tutto sport CR7 Goduria Juve i eh bianconeri eh sbancano San Siro e in un sol colpo riscattano il K.O. in campionato con l'Inter prenotando la eh finale di Coppa Italia e ritrovano un Ronaldo letale il portoghese eh prima risponde a Lautaro poi segna il eh gol della eh vittoria e vediamo poi nel eh taglio alto un po' di eh un po' di mercato con eh eccellenti in scadenza guardate chi è già libero di trovarsi un altro club eh Alaba dall'addio al Bayern nella sfida ai Real Juve Messi ma il PSG non gli da ma il PSG non gli darà centotrentotto milioni Gigio Donnarumma Milan ottimista resterà rosso nero e poi Ramos Sergio viadarreal Parigi lotenta Cavani Red Devil a tempo Napoli nel eh cuore questi i titoli sulla prima di tutto sport che poi sempre nel taglio eh centrale parla del caso di positività di Romero che errore Romero mai stato positivo eh primo tampone sbagliato l'argentino poteva giocare contro la Lazio e poi l'altra semifinale di eh Coppa Italia questa sera tra Napoli e Atalanta Gattuso De Laurentiis treguarmata e Gasperini dice Rino lavoro eh eccezionale andiamo anche sul Corriere dello Sport l'ipoteca di Cristiano un tempo a testa ma la doppietta di Ronaldo avvicina la Juve alla finale e eh Conte non ci sta dice abbiamo regalato i due eh gol Lautaro va a segno poi CR7 si scatena pari su rigore e due a uno dopo un pasticcio Bastoni Andanovic non gradisce il cambio CR7 ma Pirlo lo eh placa e poi anche qui le polemiche tra allenatore presidente ADL twitta il veleno dimentica Gattuso il presidente del Napoli difende Giuntoli e ignora Rino stasera contro Gasperini eh fuori Petagna Politano eh titolare chiudiamo anche il Corriere dello Sport e chiudiamo anche questa nostra rassegna stampa di eh oggi come sempre vi ricordo in chiusura di questa nostra prima diretta gli altri appuntamenti di oggi su Udinese TV e tutte le edizioni live del nostro eh notiziario alle dieci alle dodici alle sedici alle diciannove e alle ventidue e trenta poi è lo speciale TG dedicato alle cronache dal Veneto alle venti e trenta il pomeriggio pomeriggio calcio alle quindici il magazine serie A alle diciotto e trenta e poi la prima serata oggi è mercoledì e eh ci saranno dunque eh ci sarà dunque un appuntamento con uno degli speciali del eh TG è in primo piano la crisi eh politica con il nodo giustizia in primo piano giustizia e politica connubio eh pericoloso l'emergenza covid non sia un alibi per rimandare la soluzione di altri gravi problemi del eh paese si confronteranno su questo eh tema eh Francesco Pezzella e i suoi ospiti Giancarlo Buonocore procuratore generale regente di Venezia Carlo Nordio magistrato Claudio Siciliotti economista e il giornalista Giovanni Marzini appuntamento questa sera in diretta alle ventuno noi ci fermiamo qui per il momento grazie per la vostra attenzione e ci rivediamo alle eh dieci buona giornata a tutti grazie per la vostra attenzione e